Un altro importante step che l'aspirante alla supprenza potrebbe indicare è lo step 7, quello della priorità rispetto alla legge 104.92. E' chiaro che non tutti fruiscono di questa priorità, ma chi dovesse fruirne lo deve segnalare al punto 7. Dunque cliccando sullo step 7 si apre proprio la priorità di cui è la legge 104.92. Vedete è una dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445.2000 per poter fruire di benefici di cui all'articolo 21, 33, 5, 6 e 7 della legge 104.92. Dunque l'aspirante potrà dichiarare queste cose. In primi stanza potrà dichiarare facendo clic su questo di fruire personalmente dell'articolo 21 e quindi di avere un'invalidità superiore ai due terzi e godere dell'articolo 3 della legge 104.92, almeno il comma 1. Oppure di poter fruire della precedenza dell'articolo 33, 6 che determina una condizione di stabilità con connotazione di gravità, articolo 3, 3 della legge 104. Oppure ancora potrebbe fruire della precedenza dei commi 5 e 7 dell'articolo 33 della legge 104 per assistere, per fare assistenza al figlio. E dunque oppure al fratello e alla sorella oppure come tutela legale a una persona e dunque compilare tutte queste richieste. Oppure ancora come referente al coniuge. Qui in questa scheda si parla ancora di referente unico. E' bene però sottolineare che la referenza unica per legge è stata cancellata, non esiste più, è stata eliminata. Chiaramente ci sono poi delle dichiarazioni da indicare e trascinare il file proprio del verbale della legge 104 di riferimento. Specificando l'ente che l'ha rilasciato, la data della richiesta e l'atto, il numero dell'atto. Dopodiché si può salvare il tutto. Questa è una richiesta che dà diritto alla priorità nella scelta della sede in riferimento comunque alle preferenze espresse nello step 5. Speriamo che questo tutorial sia stato chiaro e soprattutto utile ai nostri telespettatori. Arrivederci. Grazie.